E salve a tutti ragazzi, io sono GGRX96 e oggi siamo ritornati con un nuovissimo video di Fortnite Oggi ragazzi torna la vostra serie preferita di questo canale ovvero i Fortnite News Tra l'altro raga oggi tanta roba sul canale Già vi spoiler una cosa, abbiamo una nuova collaborazione con un altro youtuber Vi lascio i link in descrizione del canale di quest'altro youtuber in cui faremo delle collaborazioni quasi ogni giorno Ragazzi però comunque fidatevi che saranno bellissime Intanto vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanellina Ovviamente se volete che io continui sempre questa serie di Fortnite News per questo video dobbiamo superare almeno i 10 like Va bene, e andarmi a seguire su Instagram ovviamente Come vedete il fiume che conduce da Fattoria all'autorità è ritornato come prima Il punto da qua fino a Forra Favolosa è ritornato come prima Invece abbiamo qualche cambiamento verso lo squalo Infatti lo squalo per esso ritornerà disponibile Anche se non ci sarà più il suo nome Ripeto, non ci sarà più il suo nome sulla mappa Quindi raga, lo squalo addio Rimarrà solo le strutture rotte Allora ci prendiamo i lama per prenderci le jump Così ci arriviamo prima Perché con i motoscaffi facciamo casino E forse non si sente tanto la mia voce nel video ragazzi Allora, mentre intanto che arriviamo Intanto che arriviamo Allo squalo Vi dico solo con chi collaborerò Per fare video, live Allora Lo youtuber con cui collaborerò Se così possiamo dire Si chiama Capitan Black Ragazzi è un mio amico Link in descrizione Per andarvi a iscrivervi a tutti Al suo canale mi raccomando raga Andatevi ad iscrivere tutti Allo suo canale ragazzi È importante È importantissimo Siamo a meno di un chilometro Dallo squalo Sì Va bene Intanto raga Aspettiamo Perché mi arrivano sempre queste notifiche Allora intanto Vi ripeto Aspettiamo anche la settimana 6 Dove si abbasserà ancora di più l'acqua Forse la settimana 6 Ritornerà in vita lo squalo Poi anche Il percorso che conduce La falegnameria E foresta frignante Come vedete Il ponte Il ponte Il ponte viola È rimasto Però mi sono dimenticato Di una cosa ragazzi Dovevo salutare All'inizio di questo video Dovevo salutare Dovevo salutare La persona che nello scorso video Ha indovinato la risposta esatta Mi raccomando Se volete essere salutati Dovete rispondere alla domanda Che adesso vi dirò Comunque ragazzi Oggi saluto Francesca Covino Che nello scorso video Ha indovinato Intanto raga La domanda di oggi È molto semplice Secondo voi Mi piace di più Il ballo balzellante Oppure mi piace di più Dove sta Oppure mi piace di più Ballo planetario A voi la risposta Nei commenti ragazzi Mi raccomando Se indovinate Vi lascio il cuore Vi dico bravo Nei commenti Congratulazioni E inoltre Venite salutati Nel prossimo video Intanto raga Qua La zona dello schianto Sta ritornando A nuovo Anche la cala corallina Ma anche sabbia Raga Sabbia è sempre La città più inondata Non vedo Tanti cambiamenti A sabbia raga Cioè io vedo Più cambiamenti A borgo Sì A borgo Prima c'era un botto Di acqua Adesso niente È finito Comunque raga Se ci fate caso Prima Faro di Lucky Sta un po' più qua Invece adesso Si è spostato più in qua Forse ragazzi Piano piano Si ricollegherà Di nuovo Con alture accoglienti Raga Alture accoglienti Per chi non sapesse Sta Sono queste Queste frazioni Di case Che stanno qua Qui comunque Qua ci stanno Tutte le isole Lì invece Abbiamo lo squalo Indiottito Povera Sky Non so che fine Abbiano fatto Sky e nitroglicerina Raga Sono svanite Proprio Ma noi tipo Possiamo entrare Dentro lo squalo Attraverso qua Le fessure Chiamiamole così Raga Non ci sto credendo Ma siamo qua Solo che non si può entrare Perché si deve abbassare Un po' Un po' Di più L'acqua Allora Guardiamo un po' Sta zona Tanto qua Saliamo Allora Raga Devo dire la verità Vabbè Tutto distrutto Vabbè Non potevamo Aspettarci Altro Aspetta Ma qui ci stanno Eccole Le scale Le scale Dove qua C'era lo scagnozzo Col cieco Che tu salivi Qua c'erano Gli ascensori Ma poi raga Dove sta La cella La cella Del fuggitivo La Il detenuto La che aveva Sbucato La stanza Stava tipo di qua Adesso raga Non lo trovo Comunque raga Lo squale È diventato Tipo il titanic Quando è affondato È proprio quello È il titanic È affondato Solo che Quella era una nave Questo è uno squalo Ah ma qui Qui però È rimasta una chest Qui Si è salvata la chest Raga E vabbè Che roba Vabbè E vabbè Siamo cascati Anche in acqua Va bene Facciamoci anche Un bagnetto Qua lo squalo E questo Per il momento È quello che Ne rimane Dello squalo Quanto è scarso Questo Recruit 1 Ah ma qui Si è salvata Anche Vabbè La parte qua Dello squalo Qua la punta Chiamiamola così Dove sta il naso Tipo Non mi intendo Di cose Dove varie Comunque Comunque qua Dove c'è la chest Qui si è sempre salvata Dall'inizio Della season 13 Andiamo invece Un po' A vedere L'isola Dove un paio Di settimane Cioè Due Tre settimane Fa Una Due Settimane Vabbè Abbiamo sbloccava Abbiamo fatto La sfida Segreta Dove dice Costruisci la loro casa Qua La cala corallina Perché Questi esseri mostruosi Stavano alla casa Alla cala corallina Siccome che la cala corallina È stata inghiottita Hanno bisogno Di una nuova Casa Ma questi qua Sono questi che cantano Siete stonatissimi Vabbè Torniamo in lobby Tu tuff 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 Va bene Va bene Io direi Di tornare in lobby E di andare a guardare Lo shop Di oggi Io già me lo sono spoilerato Comunque ragazzi Questo video Lo voglio far durare Pochissimo Perché Perché io Sto riccando alle due Alle tra Un'oretta Deve uscire Questo video Quindi lo devo far caricare poco vabbè comunque abbiamo kuno skin da 1500 vivac poi abbiamo kenji colpo rapido abbiamo artigliaccio artigliaccio abbiamo falcone questo qua ragazzi sembra home sembra però da grande poi skin art prima va bene va bene divino virtù poi malcore ok occhio del male poi abbiamo sirena primo stile secondo stile il backpack primo stile secondo stile primo stile secondo stile del backpack ashe xo lame del riflesso poi abbiamo ombra ammantata poi abbiamo ufficiale tattico poi abbiamo colpo di frusta aspetta abbiamo slurp prima di danza poi abbiamo black manta pattugliatore del par danza e bal dan anzi no prima scottante e poi ba danza e bal danza tu 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 ah bene comunque spero che questo mini video vi sia piaciuto dai fortinet news 6 così fosse stato lasciato un bel mi piace e noi ci vediamo con un nuovissimo video ciao